il tramonto di oggi 18 di aprile 2023 mi trovo qui nel terrazzo di castelfidardo la città della fisarmonica con questa ex azienda ora si chiamava proprio ora facevano gli organetti le fisarmoniche come tante aziende qui a castelfidardo la città della fisarmonica grazie a paolo soprani e settimio soprani il fratello inventori della fisarmonica da un organetto hanno creato la fisarmonica quindi questa era un ex azienda di organetti e adesso stanno costruendo case e indipendenti ognuna ogni casa villetta schiera ogni casa indipendente a un'altra porte indipendenti però il suolo bisogna calpestarlo tutti quanti insieme quindi un macello adeglie stanno a mettere il cappotto una ricopertura termica che così non ci va l'umidità dentro i muri stanno facendo l'edificio moderno con la stessa struttura del telaio vecchia guarda un po dopo qua c'è gli edifici anni 52 che campavo io che abitavo io lì al quarto piano e il penultimo piano qua e via montello 5 lì via montello 7 il muro è tutto umido la perché quelli e vecchi degli anni 50 questo qui pure è una struttura molto vecchia di quei anni solo che è rimessa a nuovo il tetto non l'hanno toccato perché buono il tetto non credo che lo toccano però non so se fanno le migliorie comunque oggi ha messo l'allerta meteo arancione qui le marche e non è successo niente non ha fatto una goccia d'acqua ieri ha piuuto un po l'altro ieri un po di più però oggi l'allerta e c'è dove essere la burrasca e tutto non ha fatto niente proprio niente tutto si è consolidato e passati due aerei oggi anni hanno fatto una modifica climatica e si è fermato tutto tutto stagnante è come un lago stagnante prima era un fiume adesso è diventato tutto un lago stagnante e così e si è bloccato tutto quindi l'allerta si è ritirata al nulla al nulla assoluto ecco vedi la c'è nubi ormai modificate il clima modificato artificialmente e qui un'apertura di nubi e quant'altro il sole che che mi riflette addosso e senza nessuna precipitazione piovosa e andiamo avanti così modifica climatica e allerte meteo inutili e niente qui c'è una racchetta anni 2000 una volta però le racchette che faceva babbo nei anni 70 era più belle una volta te le fai vedere e così andiamo avanti così non fa niente in nulla assoluto però l'altra mattina ha piovuto perché ho fatto anche il documento video sul canale Herte Montesi vale a guardare nel canale Herte ho ripreso ho messo la videocamerina quella vecchia stravecchia che non funziona al touchscreen sotto il ponte in modo che veniva coperta dalla pioggia era coperta dalla pioggia e ha ripreso il fiume Musone mentre pioveva quindi quell'ora e tre quarti ha piovuto dopo a posto non ha fatto più niente è passato i due o tre aerei a posto ha modificato tutto il clima ha bloccato tutto e adesso non fa più niente ecco qua l'allerta meteo calma attività 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 Grazie per la visione!